Una bimba di soli 4 anni è stata ricoverata a causa della febbre alta all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove è morta poco dopo. La procura ha aperto un'inchiesta su richiesta dei familiari che temono ci possano essere responsabilità mediche. I PM hanno ordinato l'acquisizione delle cartelle cliniche della bambina. Come detto la bimba presentava febbre alte dopo la decisione del ricovero in pediatria. Le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.